Le vetture ormai godono di tantissima tecnologia e con prezzi modici possiamo dire riusciamo ad acquistare prodotti che garantiscono pedoni e anche chi ha la guida della vettura. Ormai queste vetture sono in grado addirittura di frenare da sola, pensate che hanno dei sistemi in grado di riconoscere non solo le auto che sono di fronte ma anche in caso di distrazione riescono a riconoscere i pedoni. Quindi se io guidatore dovessi distrarmi la vettura si ferma da sola oppure se dovessi avere un colpo di sonno è in grado di girare lo sterzo da sola. Non vi sfido a provare quello che sto dicendo però se verrete a testare le auto vedrete che avrete la possibilità di provare questi nuovi controlli di sicurezza. Grazie